Ben trovati in appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana che si è riunito lo scorso 25 e 26 di maggio, un minuto di silenzio in apertura appunto della seduta per ricordare le vittime della strage di via De Gergofi del 1993. Questi però sono i titoli. E parleremo di depurazione industriale con la proposta di legge che intende abrogare l'emendamento finito all'interno dell'inchiesta della Cheu e quindi c'è stato un sì unanime per questa abrogazione. E poi l'attività del 2020 del garante dell'infanzia è stata approvata con una risoluzione a maggioranza. E quindi come dicevamo è stata approvata una limitata al Consiglio regionale la proposta di legge che cancella l'emendamento in materia di scarichi industriali delle concerie finito poi all'attenzione della direzione distrettuale antimafia fiorentina. La discussione sulla legge numero 40 va a abrogare l'articolo 12 della legge regionale 32 2020 a modificare l'articolo 13 bis della legge regionale 20 2006. Il testo interviene in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e in particolare diciamo così fa un focus su quelle che sono le disposizioni regionali che disciplinano la depurazione delle acque a carattere prevalentemente industriale. Oltre all'abrogazione dell'articolo 12 si sostituisce anche lo stesso articolo 13 bis disponendo che non rientra nel servizio idico intregato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflui a carattere prevalentemente industriale. Peraltro ci sono anche tanti altri soggetti che possono eventualmente stipulare apposite convenzioni con i gestori degli impianti al fine di realizzare la depurazione delle acque reflui urbane però dietro al pagamento di un corrispettivo determinato dall'autorità idrica toscana. Ascoltiamo il commento dei consiglieri partendo proprio dal presidente della regione toscana che spiega anche l'iter di questa abrogazione, Eugenio Gianni. Rimango davvero contento dell'approvazione della proposta di legge che revoca quello che era l'emendamento che aveva costruito un percorso quantomeno nel profilo interpretativo che è stato poi oggetto di tante discussioni e che aveva messo il governo nelle condizioni di porre un rilievo alla Corte Costituzionale sulla competenza in questa materia ambientale di rilascio delle acque da parte del depuratore con competenza nazionale o invece con altri tipi di valutazioni. Ecco io quando mi sono reso conto che saremo andati alla Corte Costituzionale per questa decisione, per questo conflitto di opinioni interpretative. Il 7 di luglio ho detto chiudiamo, chiudiamo tagliando la testa al toro, evitiamo che vi sia questo conflitto ma manteniamo il proprio più rigoroso di quello che sono le procedure che a livello nazionale sono state previste. C'è una gerarchia delle fonti e devo dire che al di là di tutto quello che è accaduto ovvero l'approvazione dell'emendamento circa un anno fa nel maggio del 2020, la conferma dell'interpretazione diciamo di questo emendamento nel contesto legislativo da parte della Giunta con una delibera dell'allora Giunta, quella che mi ha preceduto il 7 di agosto, l'atteggiamento molto rigoroso da parte degli uffici che hanno fatto sì che queste normative non trovassero applicazione durante quest'anno, ecco che io ho preso l'iniziativa durante il Consiglio regionale in cui discutemmo delle vicende del settore conciario di tagliare la testa al toro e con un provvedimento di legge abrogare quell'emendamento discorso. Questo rende la posizione della Regione Toscana molto chiara, molto trasparente, molto aderente a quelle che sono le normative nazionali in materia di rilascio di autorizzazione ambientale sui depuratori e al di là delle dichiarazioni di voto, delle opinioni, dei discorsi, delle interviste, il Consiglio regionale, la mia proposta, l'ha approvata all'unanimità. Sembra che emerga una concezione un po' privatistica della cosa pubblica da parte del PD e in particolare da parte dell'ex Presidente Rossi che oggi dichiara alla stampa, il Presidente Gianni mi doveva difendere, mi doveva difendere in maniera più forte perché alla base del consenso grazie al quale lui è stato eletto c'è la Giunta Rossi. Allora cos'è questa una concezione privatistica della cosa pubblica? Stiamo scherzando, questo è il PD che governa oggi la Regione Toscana, la Regione Toscana si merita oggi questo e poi c'è un altro aspetto che il PD sta cercando di fare scarica varie dire sull'opposizione che è inaccettabile, cioè il fatto di dire che noi stiamo sollevando la questione e che questo porta negatività nel settore Conciario e questo non è assolutamente vero perché loro governano, loro governavano la scorsa legislatura e se oggi siamo qui ad abrogare l'emendamento è perché c'è un'indagine in corsa, altrimenti quell'emendamento oggi non ne avremmo parlato e nessuno l'avrebbe più considerato. C'è un'inchiesta che dice che quell'emendamento è ancora l'attenzione della Magistratura e di chi ha anche altre competenze. Certo rimaniamo basiti dall'assenza per ben due giorni del Consigliere Pieroni che continua a non metterci la faccia su un problema che lui come primo firmatario ha provocato e abbiamo in discussione ribadito più volte che noi tutti siamo qui per condannare la mafia ma dobbiamo anche fare in modo di non agevolare la mafia portando emendamenti che non sono per il bene dei cittadini ma che sono probabilmente per finalità personali politiche che noi riteniamo inaccettabili. Noi come si ricorda quell'emendamento non l'abbiamo votato, arrivo in fondo, nessuno ha avuto all'epoca la premura di illustrarcelo e è stato inserito in quella legge che poi è stata impugnata. La Giunta ha provato a difendere la legge con delibera che dava mandata l'Avvocatura in quel senso e siamo arrivati ad oggi quando in realtà potevamo tranquillamente cancellarlo ieri quell'articolo 13 bis. La cancellazione di questo emendamento era un atto dovuto anche di fronte a tutti i toscani che da 40 giorni stanno ancora aspettando dalla maggioranza, dal Partito Democratico, locale e regionale del perché si è fatto quella che oggi l'ex governatore Enrico Rossi ha definito una sciocchezza in termini però un po' più enfatici e soprattutto ha fatto rilevare ancora una volta, cosa che sarà oggetto probabilmente di un'ampia discussione ma in altra sede che sarà quella del Tribunale, del perché le stesse cose che erano state proposte e bocciate nel 2018 da pareri tecnici sono state di nuovo riproposte nel 2020 con quello che a tutti gli effetti è sembrato essere uno stratagemma come è stato definito anche dagli organi inquirenti. Ci sono delle giustificazioni da dare a Toscani proprio perché in questo momento non si tratta soltanto di una fragilità di un sistema istituzionale che ormai l'intera Toscana vede come diciamo prono per certi versi ad interessi che non sono quelli pubblici e non parlo soltanto di questo caso, questo purtroppo è quello che appare alle persone ma soprattutto del perché si sia andato in questa direzione e soprattutto se il problema ambientale rischia di essere molto più grande di quel vaso di Pandora che è appena stato scoperchiato. La maggioranza ha tentato di sminuire quello che è successo perché l'emendamento che è stato presentato lo scorso anno era un emendamento molto tecnico che si inseriva all'interno di una discussione avviata da anni. Rossi e l'ex assessore Fratoni hanno rivendicato di aver sempre detto di nuovo a Conciatori. In realtà di no gliel'ha detto l'ARPAT perché nel passaggio di competenze fra provincia e regione ARPAT verificò che Acquarno stava già scaricando oltre i limiti di legge e per questo impose sia la via sia soprattutto l'AIA, cioè autorizzazione integrata ambientale. Dopo quella decisione nel 2017, nel 2018 arriva una proposta di legge istruita per facilitare nuovamente gli scarichi e diminuire i controlli. Non abbiamo mai capito perché, l'abbiamo chiesto, la risposta non c'è stata, resta il fatto che anche in quell'occasione gli uffici dell'ambiente dissero che non era un'operazione corretta. Non sono mai entrata in queste polemiche, sono presidente della commissione che ha dovuto esaminare questa proposta di legge che ci è arrivata dalla Giunta. Lo abbiamo fatto in due sedute perché io ho ritenuto opportuno rinviare la prima volta perché effettivamente le domande anche molto tecniche che venivano poste da alcuni commissari avevano bisogno di un chiarimento perché poi, a prescindere da come uno vota, che è chiaramente libero di esprimere in sede di votazione, io comunque devo mettere tutto in condizione di capire. Questo è l'obbligo che io mi son data, mettere i commissari nella condizione di esprimere al meglio la propria votazione, consapevoli di quello che votano e ho ritenuto durante la prima commissione che non ci fossero gli elementi di chiarezza, che invece con la presenza del presidente Gianni, dell'assessore Monni e dell'avvocato Bora nella seconda seduta, davvero è stato chiarito tutti. I commissari, fra l'altro, in quella seduta, così come oggi in aula, il provvedimento è passato all'unalimità, con l'astenzione di Fratelli d'Italia, se non ero di alcuni componenti della minoranza per quanto riguarda il preambolo, perché per una serie di refusi che dicono essere ancora presenti nella norma, però insomma c'è stata una bella discussione, è stato tutto approfondito. Poi, come dire, questi sono argomenti che danno spazio alla polemica politica, quindi la minoranza ha il suo ruolo, i giornalisti hanno il proprio e un mix che a volte può diventare micidiale per la comprensione della verità da parte del cittadino. È stato approvato in questo caso a maggioranza dal Consiglio regionale la proposta di risoluzione che di fatto approva la relazione sull'attività svolta nel 2020 dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dottoressa Camilla Bianchi. L'atto, che è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani, esprime apprezzamento positivo. Il Consiglio regionale ha votato a favore della proposta di risoluzione relativa al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, a seguito di un'istruttoria che è stata compiuta in prima commissione con l'audizione della Garante della Regione Toscana, la dottoressa Bianchi. Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, un anno caratterizzato dalla pandemia, ma anche l'anno delle elezioni regionali. Nonostante tutte queste difficoltà, l'attività del Garante per l'infanzia non si è interrotta ed è proseguita, è proseguita con la stessa efficacia di sempre, anche se vi è la necessità di una riorganizzazione degli uffici. Importante è stato il contributo che il Garante nel 2020 ha dato alla tematica del cyberbullismo, addirittura c'è stata una pubblicazione che è stata sostenuta e promossa dal Garante, così come significativo è stato il supporto rispetto alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il 2020 è stato l'anno di un bando con il quale si sono acquisite le disponibilità di molti volontari per il servizio di tutela ai minori stranieri non accompagnati. Un contributo significativo, quello del Garante, anche per far fronte alle emergenze che nel mondo dell'infanzia sono emerse nel corso della pandemia, in particolar modo il tema del ricongiungimento familiare, il problema della dispersione scolastica, quella dell'accesso allo sport, quello della tutela delle disabilità. Un'azione efficace per la quale l'Aula del Consiglio regionale ha espresso un parere assolutamente favorevole, ancorché a maggioranza, con due auspici. Da una parte quello che si va da una riorganizzazione quanto più rapida della struttura di supporto del Garante e dall'altra quella che si vada ad una riforma della legge regionale istitutiva del Garante in linea con i riferimenti e gli indirizzi generali che sono maturati nel contesto delle regioni e delle province autonome con riguardo alle figure di garanzia delle regioni. Una relazione che è tutto franne che una relazione. La dottoressa Bianchi, anziché raccontarci come spende gli 80 mila euro circa che la regione toscana destina alla sua figura annualmente e raccontarci quali progetti ha realizzato, quali obiettivi ha centrato. Ha presentato una relazione in cui ha fatto una collezione dei 28 comunicati stampa che ha inviato, un bando di concorso che lei stessa si è vantata di aver redatto, salvo poi scoprire che ha ottenuto nemmeno la partecipazione di una persona, quindi è andato deserto, a fronte di 80 mila euro investiti nella sua persona. Ha raccontato di una garante che si trova in difficoltà, che lavora da sola, senza il supporto della regione e tra l'altro mettendo anche, gettando anche una cattiva luce sulla regione toscana, quando in realtà la regione toscana mette a disposizione della dottoressa Bianchi, due persone, una a contratto full time, tra l'altro un part time, la stessa dottoressa Bianchi spende 15 mila euro l'anno in consulenze esterne per assistenza a queste due persone che già sono messe a sua disposizione nella regione toscana e infine, prima di gettare così tanto discredito sulla nostra regione, dovrebbe anche pensare che venendo lei da Milano, oltre al suo rimborso spese, oltre al suo stipendio di 3.800 euro al mese, ci costa anche 13.500 euro di biglietti di treno per farla arrivare da Milano qui. Se è così stanca di fare il garante si può dimettere domani mattina e lasciarlo fare a un professionista toscano che sarebbe onorato di ricoprire questo ruolo in regione. In questo momento l'infanzia, dico anche l'adolescenza, è sottoposta a uno stress maggiore di quanto ha avuto in precedenza e il ruolo del garante diventa fondamentale per cercare di registrare quello che è l'allarme che viene dai nostri bambini, dai giovani e dalle loro famiglie. L'attenzione al cyberbullismo, l'utilizzo delle nuove piattaforme, le relazioni a volte complesse che ci sono nelle famiglie, sono tutti ragioni per attenzionare al garante delle situazioni che possono diventare diffuse e che in qualche maniera vanno analizzate. E credo che sia fondamentale investire nei bambini e nei giovani anche in questo senso, con la tutela, che è la cosa principale che dobbiamo fare non soltanto come genitori ma anche noi come istituzioni. Il gruppo della Lega, così come ha fatto in commissione, anche in aula ha votato contro la relazione delle garante per l'infante e l'adolescenza, che ci è sembrata soprattutto una enunciazione di numerosi vorrei ma non posso. Questo perché il garante è oggettivamente una figura debole, voluta con forza dalla sola maggioranza e non messa in condizione di operare con una struttura adeguata anche dal punto di vista del personale. Infatti ci sono soltanto tre funzionali, di cui un dirigente, altre due figure di cui una facenti compiti di segreteria. Non è stata ancora conclusa la convenzione con l'Istituto degli Innocenti, che pure sarebbe importante per tutta una serie di ricerche e di approfondimenti indispensabili per far funzionare in modo adeguato la figura del garante dell'infanzia. Quindi manca il personale. Non ci sono gli strumenti opportuni di conoscenza, una relazione che sostanzialmente è molto didascalica, piena di buone intenzioni, ma quello che vogliamo per la Toscana sono fatti concreti e di fatti concreti in questa relazione ne leggiamo veramente molto pochi. E questo era l'ultimo argomento per l'appuntamento di questa settimana. Vi ricordo per tutti gli approfondimenti, anche sulle varie leggi e sugli emendamenti, vi ricordo il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it. Io vi aspetto come sempre qua, tra sette giorni, dentro il Consiglio.